Buongiorno a tutti, partiamo subito con le notiziole, la seconda parte, dopo aver sentito le voci dal mondiale, vediamo le notizie del calciomercato in generale europeo, mondiale, italiano, quello che volete, partendo dal Chelsea che ha ufficialmente il nuovo allenatore in Maurizio Sarri. Il tecnico ha firmato un bel contrattino triennale, quindi è tranquillo, per i prossimi tre anni lui è tranquillo, o allena il Chelsea o Abramovic lo mantiene, quindi è felice, è contento. Inoltre, piccolo aneddoto, Sarri sarà il sesto allenatore dell'italiano del Chelsea. Il suo vice sarà Gotti, che tra l'altro era il secondo di Donadoni. Ma vediamo chi erano gli altri cinque allenatori del Chelsea italiani, partendo da Gianluchino Vialli, quindi Ranieri, Ancelotti, Di Matteo e Conte, quindi cinque bei predecessori ha avuto il signor Sarri, dovrà farsi valere a sua volta. Restando sul Chelsea, ci sono le questioni che riguardano anche i nuovi giocatori, che arrivano, arriva Sarri e arriva anche Giorghiglio, che ha firmato fino al 2023, quindi un bel contrattino di cinque anni. Da lunedì può partire poi l'assalto ad Alisson e Nguain, quindi Abramovic sta preparando una bella squadretta se dovessero arrivare per Borizio Sarri. Veniamo alle questioni più italiane, tra virgolette, visto che l'Atletico Madrid per Fersarico ha fatto una richiesta di 30 milioni. Nessuna apertura al prestito oneroso con riscatto. Quindi, signori miei, mi sa che all'Inter dello Sarico non verrà mai. Quindi, Lazio, previsto un incontro per il nuovo di Radu, l'attuale contratto del giocatore scadrà nel 2020, quindi non da evitare che poi tra un anno, a fine del campionato, questo si metta d'accordo con come ha fatto De Vrij, anticipano un attimino e magari glielo allungano. Giustamente, Sassuola è fatta per Magnani dalla Juventus. Il difensore ha disputato lo scorso campionato di Serie B con il Perugia. Genoa arriva al difensore Cristian Romero dal Belgrano. Il club deve decidere se interesserarlo o prestarlo. Cristian Romero è un classe 98 giocatore argentino, difensore dell'atletico Belgrano, che nello scorso campionato, di ben 28 squadre, perché il campionato argentino l'anno scorso è stato 28 squadre, solo girone di andata, quindi come venivano, venivano, o giocavi in caso o giocavi in trasferta, però veniva a caso, facevi solo girone di andata, e hanno avuto ben 4 retrocessioni e 2 squadre che invece salivano dalla Serie B. In questo modo tutti gli anni scendono, quindi l'anno prossimo il campionato sarà a 26 squadre, si spera che riescano a fare andata e ritorno, e poi scenderanno quindi a 24, a 22, entro forse 4 anni e riescono a scendere a 20. Comunque è un difensore dell'atletico Belgrano, che sono andato a vedere, è arrivato tredicesimo su 28 nella classifica del campionato argentino. Poi vedremo al Genova cosa vorrà farne. Dal Genova si passa alla Spal, che mentre prepara l'offerta finale per portarsi a casa Petania dall'Atalanta, pensa anche alla difesa e non mostra la pista che porta al difensore Gioru, che è dell'Antaglia Sport. Gioru è un classe 87, quindi va già a 31 anni, è un difensore ivoriano, della costa d'Avorio, è dell'Antaglia Sport, e sta per fare la risoluzione del contratto con la squadra turca, quindi teoricamente dovrebbero prendere a parametro zero. Frosidone, Perica ha accettato l'offerta del club, manca però l'accordo con l'Udinese, che dovrebbe comunque trovarsi in breve tempo, quindi teoricamente Perica si può considerare l'attaccante futuro del Frosidone per il prossimo campionato. Chievo, ufficiale è il rinnovo del portiere Seculin, che è contratto fino al 2021, e anche l'anno prossimo, poverino farà da riserva a nonno Sorrentino, che sembrava avesse deciso di smettere, invece si vede che si vuole fare ancora un ammetto in Serie A. L'anno scorso il signor Sorrentino, qualche bella parata l'ha fatta, spesso e volentieri ha salvato la porta del Chievo, regolandogli qualche punticino. Bene, proseguiamo con la prima amichevole della Roma, che ha battuto 9 a 0 in Latina, in evidenza Scicco un tre gol e doppietta di Zeco. Gli altri autori sono stati Marcano, i due fratelli Pellegrini e poi c'è stato un autorete. Roma, dopo la partita di Francesco ha detto, Pastore ha fatto bene nella ripresa. Cristante e Marcano si sono applicati molto, quindi era abbastanza soddisfatto, però giocare con Latina è un amichevole. Napoli, prima amichevole anche per il Napoli, che ha battuto 4 a 0 il Gozzano. I marcatori sono stati Fabian Ruiz, Grassi, Verdi su rigore e Onas, e hanno detto che il gol di Ruiz, purtroppo non ho avuto modo di vederlo, ma hanno detto che è stato molto, ma molto bello. Veniamo, dopo la partita, alle dichiarazioni di Ancelotti, che ha detto, Amsic ha tutto per fare il regista del Napoli. La squadra ha già le conoscenze su cui non serve lavorare. Sempre Ancelotti, al Chelsea una magnifica esperienza. Non posso che augurare il meglio a Sarri per il suo futuro. Ancora Ancelotti, la vicinanza con Marek aiuterà di Avarà. Deve verticalizzare un po' di più, ma già va bene così. Sempre il Napoli, però stavolta è De Laurentiis che parla. Torna Cavani, perché ne ha chiesto se tornava Cavani. Se si riduce lo stipendio, questo guadagna 20 milioni di euro ogni 10 mesi, giustamente. Braccino Corto, Napoli, Ancelotti, il gruppo Esame può fare molto bene. Sono un'azienda lista. Le strategie di mercato si fanno con il club. Da Napoli passiamo alla Sardegna con Cagliari, con Cerri, es giocatore del Perugia, es giocatore poi anche della Juve, eccetera, eccetera. L'anno scorso era il Perugia, che ha detto. Ho accettato senza pensarci, sono carico. La Serie B mi ha migliorato. Da Cagliari si passa a Bergamo, Atalanta, Ilicic, con Zapata salto di qualità. A Bergamo voglio migliorare e segnare di più. Veniamo al Livorno, quindi passiamo da Cagliari a Livorno, di fronte. Stiamo facendo il giro. Ufficiale il ritorno di Alessandro Diamanti. Ha giocato in Toscana dal 2007 al 2009. Allora, l'anno scorso Diamanti era al Perugia da febbraio fino alla fine del campionato. Ha giocato 12 partite segnando due gol. E ci sono già le battutine del Livorno che hanno messo volete mettere Diamanti con Cristiano Ronaldo, dai, Diamanti tanta roba. Vediamo di nuovo al Chelsea alle dichiarazioni di Sarri. Felice di essere arrivato a Londra. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Poi ha detto faremo un calcio divertente per i tifosi. Vogliamo arrivare in fondo ad ogni competizione. Di rimando anche Giorginio che è appena arrivato anche lui che più o meno dice le stesse cose. Felice di essere arrivato a Londra sono entusiasta di giocare nella Premier League. E con questo abbiamo concluso le notizie del 14 luglio 2018. Ci sono stati un po' di amichevoli. L'Inter ha vinto 3-0 con Lugano. Vabbè, ma sono ancora partitella. Stiamo aspettando l'ICC, l'International Champions Cup che partirà il 20. settimana, neanche una settimana dopo la fine del Mondiale si inizia con altre partite interessanti. Quindi 16 squadre, le 12 europee e 4 italiane. Inter Milan, Juventus e Roma se non sbaglio. Più 12 squadre europee di livello. C'è il Chelsea, c'è il Lione, c'è il Bayern, c'è l'Atletico Madrid. Ce ne sono per divertirsi. Comunque l'Inter ha vinto 3-0 vi stavo dicendo. Ha segnato Martinez, Caramò e il terzo non me lo ricordo già più. Comunque niente, meno male che abbiamo vinto visto che l'ultima partita con Lugano è stata a 95 siamo usciti al primo turno di Coppa UEFA avevamo pareggiato a Lugano 1-1 giustamente su un calcio di punizione si è addormentato Pagliuca abbiamo preso gol per 1-0 in casa e siamo andati a casa. Comunque ha vinto 3-0 e niente non mi ricordo chi ha segnato il terzo gol però fa niente non cambia più di tanto il risultato finale 3-0 quindi ce ne sono state tante altre ma non sto a tegnarvi i testi con l'elenco delle partite che si sono giocate perché sono le prime quindi giocano tutte come si è visto la Roma con Latina la Lazio con il Napoli con il Gozzano 9-0 4-0 3-0 l'Inter mi sembra che anche l'Atalanta ha vinto qualcosa come 13-0 non servono non dicono ancora nulla sono solo delle sgambatine tanto per vedere come stanno i giocatori ripeto la libidine inizia tra 5 giorni appena finisce il mondiale con l'International Champions Cup che lì si vedono un attimino i valori delle nostre squadre anche se ripeto sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano però un conto giocare con Lugano un giorno è un conto farla amichevole con un Atletico Madrid o con un Lione o con un Chelsea altra categoria per intenderci bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao